La messa in sicurezza dei fiumi Tordino e Salino e il completamento della Teramo Mare saranno realtà. A rassicurare sul futuro dei fiumi Teramani e dell'Arteria che dovrà collegare Teramo Capoluogo a Giulianova è stato il governatore della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, intervenuto sabato a Giulianova all'evento organizzato dal Partito Democratico a cui hanno partecipato i rappresentanti del Comitato di Quartiere Locale e quelli spontanei che si sono formati a seguito dell'alluvione di marzo 2011. Nel corso dell'incontro i cittadini hanno espresso al presidente D'Alfonso le loro paure ed i problemi che affliggono chi abita nelle vicinanze delle foci del Tordino e del Salino illustrando anche le possibili soluzioni da attuare. Il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha ricordato la notte terribile del marzo del 2011 ed invocato un impegno certo e competente di provincia e regione. Gli ha fatto eco il sindaco di Roseto, Enio Pavone, che ha ringraziato il governatore D'Alfonso per la vicinanza al territorio senza fare distinzioni politiche. Il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, invece, ha elencato i lavori in itinere sulla foce del Salinello e sul corso del fiume Tordino all'altezza del comune di Bellante rilanciando i dubbi sulla proprietà dei contratti di fiume anche in relazione alle difficoltà di avere i fondi per i progetti di messa in sicurezza. Dubbi e appelli che D'Alfonso ha voluto fugare attraverso l'assunzione di impegni certi. Il governatore, infatti, ha annunciato 800 mila euro per i lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza dei fiumi e una soluzione a breve anche per il quarto lotto della Teramo mare, definita da D'Alfonso la seconda priorità della regione Abruzzo. Io voglio dire che queste opere danno luce alla regione e anche a chi per la regione rappresenta il potere della regione. Mi applicherò non fermandomi davanti neanche al limite. C'è bisogno però di mettere in campo una intelligente collaborazione. Sono convinto che ce la faremo.